Partiamo da una seppia, seppia sporca, sempre pescato locale, che vi farò capire anche come pulire in modo rapido e veloce a casa. Quelli sono dei gamberi rosa pescato di Salerno proprio, c'è un prodotto tipico del nostro mare. Sempre del tuo pescatore di fiducia. Io non vi vero mai il nome. Ve lo estirperemo con la forza. Le fragole di stagione, una composizione troppo perfetta, non le tocco. Gli scampi. Eccoli qua, i nostri scampi, anche qui preparati. Un po' di tonno fresco. Non è che si muove, aspetta che io vado davanti a prendere il piatto. No, 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 altrimenti mi dici sempre che non ti faccio fare nulla. Vabbè, dai, qui la granella di nocciole, che utilizzeremo sempre nella colazione dei crudi. Nocciole di giffoni, sicuramente. Rigorosamente tonda di giffoni. Il limone della costiera malfitana. Immancabile. Bello profumato. Ovviamente, sì. Una carota da usare sempre per accompagnare il nostro crudo. Parto dalla seppia perché, come dicevo, diciamo noi al ristorante siamo un pochino sempre più laboriosi nel fare le nostre cose. Invece volevo far capire a casa come pulire una seppia in modo rapido. Si spancia. Sì, con la... Sono brava, eh? Con le nostre forbici andiamo ad aprire la seppiolina. Ok. Vedi? La spanciamo, nel vero senso della parola. Ecco, spancia, spancia, che meglio. Andiamo proprio a tirare via la testa e ci ritroviamo la pancia, vedi, bella già pulita, alla quale dobbiamo soltanto poi togliere l'ossicino. Con la parte proprio della pancia, l'ho ridotta a striscioline. Come vedi, vedi, una sorta di tagliatella, come si dice in geotecnico. Ok, a julienne? Non soltanto con olio d'oliva, ma anche con limone. Ah, ecco. E questo già praticamente è un piatto pronto, finito. Allora, quindi abbiamo pulito i gamberi, abbiamo tolto tutta la parte, le budella, tutto quanto. Sì, e che cosa facciamo? La mia fragolina, bella, fresca. Mamma mia. Facciamo così. La cubettiamo, nel vero senso della parola. Diamo una sminuzzata veloce anche ai nostri gamberetti. Dolcissima. Ok. Quindi abbiamo messo gamberi e fragole. Sì. Basta. Ovviamente un pizzico di pepe. E l'olio extravergine, oro campania, del nostro presidente Gerardo Alfani. Adesso passiamo al tonno, quindi un filetto di tonno fresco. Esatto, un bel filetto. Andiate sempre nella vostra pescheria di fiducia, perché tanto il pescatore di Salvatore non ce lo dice. E tagliamo a tozzetti. Sì. Comunque sempre spezzettato, a dadini abbastanza grandi, non propriamente sminuzzati, ecco. E quindi, velocemente, abbiamo fatto la nostra tartarina di tonno o cubettata di tonno. Ok. Andiamo un attimo a riempire la ciongola. Poi magari spieghiamo anche il fatto che il tonno deve essere abbattuto. Sì, rigorosamente. Soprattutto se usiamo crudo, nel frattempo vado avanti. Sì. Granella di nocciole. Ok. Se sono di giffoni è meglio. E un filo d'olio. Olio extravergine di oliva che abbiamo detto che esalta ancora di più i sapori dei crudi di mare. Di mare, certo. E ancora un po' di pepe. Decapito al volo. Perché mi serve il filetto intero? Io sempre per agevolare diciamo la pratica a casa. Ecco, con le forbici apro, piano piano, ecco qua, apro lo scampezzo e mi prendo la polpa. Così rimane abbastanza intera, no? Perfetto. Perfetto. Vedi, già ce l'ho parzialmente aperto e quindi con l'aiuto sempre dello spelucchino vado a togliere il budellino. Eccolo qua. Rapido. Ok. Feliamo velocemente la carota. Ah, guarda, come respiritura di carota un attimo proprio. E mi serve proprio un cubetto, cioè un cilindretto più che altro. Ah. Poi ti faccio capire perché. Nel nostro piattino, bello, ci appoggiamo la carota. Sì. E semplicemente la usiamo un po' come base d'appoggio per il nostro scampo. Poi, con la tartare di tonno, andiamo, l'abbiamo lasciata marinare, come dicevo, in olio extravergine di oliva e quindi andiamo a posizionare proprio la tartare di tonno in uno degli angoli. Perfetto. Comincia a prendere forma questo piatto molto, molto estivo. Non può mancare il nostro gamberetto con le fragole, con la seppia. Cerchiamo proprio di fare un nidino. Dopodiché, Rosaria, io non ho aggiunto sale, non so se hai notato, ma quello che faccio è aggiungere dei granelli di sale grosso. Ah, perché poi il sale grosso? Perché magari ti aiuta anche a ripulere meglio il palato, visto tutta la grassezza del pesce crudo. Anche se lo sgranchiamo poi. Sì, sì, sì. Finiamo sempre con un goccio di olio extravergine d'oliva delle cordine sermitane. Eccolo qua. Ecco qua. Mamma mia, che bello. Un po' una spolverata di pepe. Ovviamente, magari usiamo qualche fiorellino di salvia, in questo caso, giusto per dare un po' di colore. Bello questo piatto. Ci piace, velocissimo, lo potete fare a casa tranquillamente. Ricordatevi che il pesce deve essere abbattuto, però credo che il risultato sia assolutamente perfetto e conquisterete tutti i vostri ospiti. Solo ai sapori del sole. Grazie a tutti i nostri ospiti.